buongiorno a tutti allora tutte le partite oggi l'hanno fatto apposta l'hanno fatto apposta oggi si giocheranno tutte le gare di 10 gare di ritorno della champions league preliminari champions league quindi bando alle ciance ciancio alle pande non vi sto neanche a far vedere la maglietta del mitico bad perché tanto ve l'ho fatta vedere nei video precedenti e partiamo subito con la schedinazza poi ho pronte anche le bollette e c'è tutto allora zalgiris bodo glint 1 2 avrei dovuto mettere due ma siccome questo 0 5 all'andata dove questa vittoria netta del bodo glint mi fa preoccupare un attimo proviamo questa anomala 1 2 apollo limassol maccabi haifa x2 anche qui potevo mettere l'1 2 proprio perché all'andata al maccabi ha vinto 4 a 0 non vorrei che va in gita a cipro plizzen sheriff 1 il plizzen ha già vinto 2 a 1 all'andata in casa dello sheriff quindi penso che ribadirà la vittoria penso punic stella rossa anche al qui all'andata era finita 5 a 0 per la stella rossa ma credo che la stella rossa anche giocando normalmente non dovrebbe aver problemi a battere il punic squadra armena quindi 2 mitillan benfica x2 ferrenbaro squarabago 1x dinamo zagabria ludogorez 1 psv monaco mi arrischio un x fisso come ho fatto nel campionato francese che mi è andata bene l'ho presa siccome è andata è finita 1 a 1 attenzione che anche qui potrebbe uscire un altro pareggiotto e questi mi vanno ai supplementari magari 2 a 2 butto lì così difficile è difficile perché questa è la partita più equilibrata del di tutte storm grads dinamo chievo 1 2 all'andata è finita 1 a 0 per la dinamo chievo quindi è un'altra partita anche questa un po folle e rangers san gilwa 1 perché cresso dell'idea che i rangers finalisti lo scorso anno in coppa uefa come mi ha fatto notare uno dei miei follower più attivi non può uscire al primo turno senza almeno addirittura i preliminari di champions senza almeno vincere l'ultima partita provarci a eliminare il san gilwa anche se sarà durissima perché l'andata è finita 2 a 0 per i belgi andiamo a vedere la schedina alternativa zalgiris bodoglint over 2 e mezzo apollo maccabiafia over 1 e mezzo plizzen sheriff gol a mio rischio e pericolo pionic stella rossa over 2 e mezzo mittillam benfica gol ferrenvaro squarabag gol dinamo zagabria ludo golez over 1 e mezzo psv endoven monaco gol stum graz dinamo chievo over 1 e mezzo anche se è dura perché l'andata è finita solo 1 a 0 quindi se volete mettere l'under può essere un'idea però attenzione perché spesso volentieri se all'andata una partita finisce 1 a 0 poi il ritorno col fatto che devono qualificarsi eccetera può succedere di tutto e infine concludiamo con ranger san gilwa over 2 e mezzo bene 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 andiamo alle bollette del gigione il gigione di queste dieci partite ne ha scelte quattro tutte mischiate per orari eccetera ho scelto zalgiris bodoglin mittillam benfica dinamo zagabria ludo golez e glasgow rangers san gilwa quindi tutte le partite dalle 18 fino all'ultima delle 20 e 45 tutte mischiate per farvi un po impazzire partiamo con la bolletta delle fisse zalgiris bodoglin 2 mittillam benfica 2 dinamo zagabria ludo golez 1 glasgow render san gilwa 1 con 5 euro se ne vincono 46 tonde tonde è la bolletta delle fisse voi non siete obbligati a giocare tutte fisse bollettina numero 2 zalgiris bodoglin multigol ospite 2 4 mittillam benfica multigol ospite 2 4 dinamo zagabria ludo golez multigol casa 2 4 glasgow rangers san gilwa multigol casa 2 4 con 5 euro se ne vincono 47,28 il gigione qua è andato giù con la mannaia e rischia rischia perché questa è molto molto arrischiata quindi non è che siete obbligati a seguire le mie direttive anzi anzi magari fate il braccino fate 1 4 in qualche partita per essere più tranquilli però naturalmente la quota si abbassa però io ve la butto lì così voglio arrischiarmela però se non siete convinti 1 4 più tranquilli pochi ma buoni qua invece fatto il braccino mi spiace ma nella bollettina della doppia chance più over non ho messo perché non sapevo quale scegliere sono tutte lì lì come quota eccetera eccetera sono sopra l'1 e 40 le lascio così quattro volte e mezza alla posta e ci sia contenta con 5 euro se ne vincono 22,38 e gli over sono sempre over 1 e mezzo se volete rischiate con l'over ma lasciate la doppia è un mio consiglio ve lo butto lì bollettina numero 4 zalgiris bodoglin gol casa mittillam benfica gol casa dinamo zagavia ludo gorez gol ospite glas gorenger san gilwa gol ospite con 5 euro se ne vin con 19,16 inutile che vi dico che questa è la bollettina che mi fa libidine andiamo alla bollettina numero 5 anche stavolta non posso farvi le imitazioni per una partita che non mi aspettavo mi dicessero no il gol più over in questa partita non è favorito di pochissimo eh di un non nulla però non è favorito zalgiris bodoglin gol più over mittillam benfica gol più over dinamo zagabria ludo gorez gol più over glas gorenger san gilwa gol più over con 5 euro se ne vincono 73,56 e l'unica partita in cui il gol più over non è favorito alzo un attimino la telecamera è glas gorenger san gilwa guardate mi sarei aspettato magari dinamo zagabria ludo gorez mittillam benfica anche zalgiris bod no glas gorenger san gilwa quindi non vi posso fare le imitazioni però pensateci perché la differenza è solo 0,10 le altre sono tutte favorite la quota come vedete 73,56 non è altissima quindi fateci un pensierino e infatti anche nella bollettina numero 6 che di solito è folle non è esageratamente folle perché zalgiris bodoglin 2 più gol mittillam benfica 2 più gol dinamo zagabria ludo gorez 1 più gol glas gorenger san gilwa 1 più gol con 2 euro se ne vincono 221,46 con 5 euro 553,65 però zalgiris bodoglint e mittillam benfica restano favoriti seppure non di molto dinamo zagabria ludo gorez l'uno più gol il gol non è favorito ma c'è una differenza solo di 0,25 quindi proprio un'anticchia e anche glas gorenger san gilwa che non era favorito già prima col gol più over nonostante questo è sotto l'uno di differenza quindi non c'è una differenza di 1,50 1,75 a favore del gol solo 0,75 quindi è difficile ma indi per cui bolletta alternativa tenendo conto che magari dinamo zagabria ludo gorez ci dovete pensare un attimino se da fare no gol o gol comunque zalgiris bodoglint 2 più gol mittillam benfica 2 più gol dinamo zagabria ludo gorez 1 più 1 gol perché non è favorito quindi mettiamo l'1 più 1 gol però ripeto a vostra discrezione e infine glas gorenger san gilwa 1 più 1 gol in questo caso con 2 euro se ne vincono 160,57 con 5 euro 401,43 vedremo come andranno le partite tenete conto sempre delle sorprese vi ho fatto la schedina vi ho fatto la schedina alternativa classica vi ho fatto le bollette vedremo vedremo perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo si è vista anche in Coppa Italia 5 squadre di Serie A su 6 e su 12 eliminate e giocavano anche in casa tra l'altro a parte il Sassuolo che giocava a Modena ma siamo lì eh tra Sassuolo e Modena non so quanti chilometri ci siano di differenza quindi detto questo comunque io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao